Ho una vicina di casa che si fa continuamente dei tatuaggi. Quando una volta le chiesi come poteva permettere che le marcassero il corpo con tanta disinvoltura con un inchiostro permanente mi rispose ma no hai capito male non è permanente è temporaneo. I tatuaggi sono permanenti è il mio corpo ad essere temporaneo come il tuo. Restiamo su questa terra per poco e io ho deciso molto tempo fa che desidero decorarmi nel modo più divertente.